Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Roberto Di Giacomo. Il ralentamento in direzione Roma tra Calenzano e Firenze Scandicci. In A12, code a tratti tra Rosignano e l'allacciamento per l'Aurelia in direzione Rosignano e code allo svingolo di Rosignano. Sulla statale 1 Aurelia, traffico intenso tra l'incrocio di Vada e quello di San Vincenzo. Morso in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio!